Da Spato va allo stadio. Se ne infischia del divieto di accedere alle manifestazioni sportive per 5 anni, notificato il 14 aprile 2014 dalla Questura di Chieti, il Tribunale di Sudmuna oggi lo ha condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di 6.000 euro di multa e delle spese processuali. Per GA 44enne residente a Vasto, il giudice monocratico Marco Bigli ha pronunciato la sentenza di condanna non c'è tenuità del fatto che tenga. L'amore e la passione per la scuola del cuore, la vastese, non è bastato ai magistrati per graziare il 44enne che oggi si è presentato davanti al giudice in sede delle discussioni del procedimento dibattimentale e nella sua dichiarazione spontanea ha ammesso di essere entrato allo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona per la gara valida per il girone F di Serie D, ma senza assumere atteggiamenti violenti o creare disturbo. Quella domenica, il 4 marzo 2018, scendevano in campo nero stellati e vastese. Lui, il tifoso 44enne, non c'è proprio riuscito a restare a casa, era più forte di lui. Entrando allo stadio è stato riconosciuto e identificato, definito sotto processo per aver violato il divieto di accesso presso tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e di tutti gli stati membri dell'Unione Europea partecipando all'incontro di calcio. Le disposizioni sono contenute nella legge numero 401 del 1989 che disciplina la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. L'Ultra è stato giudicato con rito abbreviato. Il suo legale aveva chiesto la soluzione, tenendo conto dell'attenuità del fatto, ma il giudice Billi lo ha condannato a otto mesi di reclusione, considerando le attenuanti previste per la scelta del rito, come aveva richiesto il PM in sede di discussione. Il 44enne dovrà pagare 6.000 euro di multa, la procura aveva chiesto 10.000 euro di ammenda, oltre alle spese processuali, come a dire che la passione per la scuola del cuore non può portare a infrangere le regole.